E' chiaro che la burocrazia, sappiamo, è uno dei maggiori mali dell'Italia su tutti i sistemi, in particolar modo anche sulle camere di commercio, che sono un ausilio, un aiuto importantissimo per le imprese italiane e per il nostro territorio. La burocrazia permette di non operare nel modo corretto e rallenta tutte le operatività che potrebbero essere molto propedeutiche per l'attività industriale del nostro territorio.